Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo la differenza tra i due scarponi da trekking del marchio Scarpa Nel particolare il Mescalito TRK Planet e il Rush TRK Ma iniziamo subito col video che ne vediamo le differenze Prima di iniziare vediamo un attimo quali tipi di scarponi esistono Per quanto riguarda il Mescalito è l'unico praticamente C'è la vecchia versione TRK non Planet, è praticamente uguale Semplicemente questa nuova versione utilizza alta percentuale di materiali riciclati Per quanto riguarda i Rush invece esiste la versione TRK che è questa qua che ho io E esiste anche la versione TRK LT che semplicemente ha la tomaia più leggera e più traspirante Per il resto diciamo che la gamma è abbastanza ridotta Io qua ho entrambe le versioni con la tomaia in pelle e adesso ne vediamo un po' le differenze Iniziamo come al solito dalla suola di questi scarponi Per quanto riguarda il Mescalito troviamo una Vibram EcoStep Evo Mentre per quanto riguarda i Rush troviamo una presa TRK01 Quindi Vibram contro presa di scarpa Questo cosa vuol dire? Innanzitutto tutte e due sono delle suole molto molto buone Però ci sono un po' delle differenze Soprattutto su roccia Ho trovato che questa EcoStep Evo di Mescalito Su alcune rocce tiene e su alcune rocce no Come vi raccontavo nella recensione su della roccia granitica tiene abbastanza Su della roccia più morenica non tiene Per quanto riguarda invece la presa vi assicuro tiene praticamente ovunque Su qualsiasi tipo di roccia anche roccia bagnata Ho notato che veramente questa presa ha un grip migliore di questa EcoStep Evo di Vibram Il motivo è molto semplice che questa Vibram è più dura È proprio una suola, una mescola più dura Invece la SuperGam, la mescola con cui ho fatto questa presa è molto più morbida E questo lo notiamo anche perché alla lunga La Mescalito ha una suola ancora praticamente nuova I Rush si stanno consumando veramente molto velocemente Però entrambi sono risuolabili Quindi nel caso in cui andiate a finire velocemente la suola potete risuolarle Passiamo ora all'intersuola per questi due scarponi Entrambi utilizzano dell'intersuola di neva a diversa densità Abbiamo delle parti a bassa densità per aumentare il cushioning Per permetterci di fare dei trekking molto lunghi Senza sentire la fine aggiornata il piede stanco E troviamo delle parti ad alta densità per aiutarci nella stabilità quando camminiamo La grossa differenza dell'intersuola però è che il Rush è semirigido Mentre il Mescalito è rigido Questo cosa vuol dire? Il Rush ci aiuterà molto quando facciamo delle camminate lunghe Ci favorisce la rullata del piede, non ci costringe Abbiamo una camminata molto più naturale Il Mescalito invece da questo punto di vista ci darà una camminata che non è così naturale Tenderà a far stancare abbastanza il piede Più pensato magari per dei trekking meno lunghi Mentre il Rush dei trekking abbastanza lunghi Passando alla Tomaia Anche qua troviamo due Tomaie completamente diverse Entrambi in pelle ma i Rush usano una per Vangar e il Mescalito una per Spear A livello di durabilità diciamo che siamo lì Sono molto simili, li sto utilizzando da un po' Devo dire che come durabilità siamo lì La differenza la fa la traspirabilità e la termicità I Rush li ho trovati molto più traspiranti rispetto che il Mescalito I Rush li possiamo utilizzare a temperature molto più alte E non avremo così grande sudore del piede Poi naturalmente se li vogliamo proprio super freschi c'è sempre la versione LT Per quanto riguarda invece il Mescalito con questa Tomaia molto più pesante E devo dire che soprattutto nelle giornate calde a bassa quota Il piede suda suda parecchio In questo caso magari è meglio utilizzarli un pochino più ad alta quota questi Mescalito Per quanto riguarda la parte del tallone Abbastanza simili, molto strutturati tutti e due Naturalmente non ci fanno prendere storti perché sono abbastanza alti tutti e due La cosa che cambia un pelo è il taglio sulla parte posteriore del tallone sul collare Il Rush è un pochino più tagliato per garantirci una migliore rollata Il Mescalito è un pochino meno tagliato in modo tale da garantirci un pochino più di sostegno Ma questo davvero lo sentiamo in minima minima parte Diciamo che sono abbastanza simili a questo punto di vista Infine linguetta allacciatura Linguetta classica su tutte e due Super simile Potremmo dire che è quasi la stessa Allacciatura invece molto più precisa sul Mescalito Perché ha quel tipo di allacciatura molto più da scarpetta da arrampicata Che arriva quasi fino in punta E davvero ha un'allacciatura molto più precisa Il Rush ha un'allacciatura comunque precisa Il piede all'interno ci sta molto bene Però ha un'allacciatura molto più classica da scarponi di montagna Non da scarpetta da arrampicata Dunque dove è meglio utilizzare il Mescalito e dove il Rush? La differenza secondo me è nella quota a cui andiamo sul tipo di sentiero Il Mescalito vi consiglio di utilizzarli da 2.200-2.500 metri di quota in su Il Rush dai 2.500 metri di quota in giù Diciamo tutto quello che è sentiero escursionistico di bassa quota Media montagna, facile, single track, poca roccia Davvero i Rush vanno veramente bene Per quanto riguarda invece il Mescalito Tutto quello che è alta montagna, roccia, trekking impegnativi, vie ferrate Sono perfetti Utilizzatore invece A chi consigli di utilizzarli? I Rush secondo me sono perfetti per un pubblico abbastanza ampio Che possa andare dal principiante all'esperto Soprattutto il principiante ce lo do veramente molto bene con questo scarpone Perché gli dà modo di fare un po' tutto Il Mescalito invece vende una sola rigida Diciamo medio esperto Sicuramente non per chi inizia Non per chi ha le prime armi Una persona già abbastanza esperta Che riesce a portare uno scarpone rigido In conclusione Prezzi 280 il Mescalito 220 Rush Questi sono i prezzi ufficiali Scarpa Diciamo che i prezzi secondo me ci stanno Sono nella linea di mercato Naturalmente sono abbastanza diversi Ma perché utilizzano delle tecnologie diverse Badalmente Scarpa utilizzando la presa sui Rush Sicuramente è nata a risparmiare rispetto a utilizzando una Vibram Però diciamo che i prezzi secondo me ci stanno Poi tenete conto che online comunque si può trovare anche abbastanza scontati Detto ciò ragazzi Fatemi sapere quale dei due voi comprereste E quale andreste a utilizzare Io nella speranza esatta Esattamente esattivo Anche per questo video Vi ringrazio per aver guardato E noi ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao